Il T6900 SB è una delle novità più interessanti presentate da Etrusco per la stagione 2020, un modello che in meno di 7 metri di lunghezza riesce a garantire spazio e abitabilità. È un veicolo di dimensioni esterne non eccessive, con lunghezza contenuta al di sotto dei 7 metri e altezza complessiva inferiore a 3 metri, che sfrutta gli spazi disponibili per declinare una delle disposizioni interne oggi più richieste, quella con letti gemelli posteriore su garage. Il veicolo, che è omologato per 4 persone in viaggio, si caratterizza per la buona distribuzione degli spazi interni, molto arioso e ben illuminato, partendo dalla zona notte con letti gemelli che si possono anche trasformare in un grande matrimoniale. Si passa direttamente senza alcun montante verticale al blocco cucinadelle con fornella a tre fuochi e la velo tondo in acciaio inox, contrapposto alla colonna frigo affiancato alla zona toilette con parete e lavabo ruotabile, fino ad arrivare al comodo living che grazie ad un rivanetto fronte marcia e alla poltroncina posizionata sul lato destro e ai sedili girevoli della cabina guida, il tavolo a parete può ospitare fino a 5 persone. In questa zona si trova la porta d'ingresso, dotata di scalino elettrico e della nuova porta con controstapo interno, finestra e serratura automobilistica ed è sempre in questa zona che è possibile richiedere l'installazione del classico letto matrimoniale basculante discendente, un letto di dimensioni regolari che assicura due comodi posti letto grazie anche alla presenza di serie, se richiesto, delle reti Climatlux. L'aggiunta del basculante permette al T6900 SB, nato per la coppia, di aumentare a 4 posti letto, ma fra i tanti punti di forza c'è anche il maxi garage posteriore passante con rivestimento antiscivoli e anelli di fissaggio del carico che aumenta l'offerta di stivaggio con dei vani ben organizzati. In coda la camera da letto prevede la presenza dei letti gemelli, a sovrastare il maxi garage passante e tre armati guardaroba, due sono ricavati alle basi dei letti, uno a sviluppo in altezza maggiore si trova tra il letto posteriore singolo sinistro e il blocco cucina. Molto curato, anche il design interno da quest'anno etrusco offre infatti una doppia possibilità di scelta. Questo vale sia per le tapezzerie, proposte in due varianti, per accontentare sia chi ama il gusto classico chiaro e quello più marcato scuro, ma soprattutto grazie alla nuova variante Type X, un nuovo design per lante dei pensili e per dettagli esclusivi. Un pacchetto che è disponibile sia per il nuovo T6900 SB sia per tutti i veicoli della collezione e che assicura ancora più stile e dotazioni a tutti i veicoli della collezione etrusco. Molto ricche anche le dotazioni di serie con finestre complete di telaio e minima sporgenza laterale, carter posteriori dedicati alla coda del veicolo, oltre che il pack chassis e il pack base che rendono questi veicoli completi garantiti per sette anni contro le infiltrazioni. Un ultimo accenno lo merita poi quella che è la meccanica di base, quella che dà vita a questo allestimento. Si tratta del nuovo Fiat Ducato, nella versione da 35 quintali, telaio ribassato Camping Car Special, le motorizzazioni in linea con le nuove normative anti-inquinamento Euro 6 di Temp, motori da 2,3 litri, potenze di 120, 140, 160 o 180 cavalli. Le tre motorizzazioni più potenti sono naturalmente abbinabili anche al nuovissimo cambio automatico a nove rapporti. Etrusco T6900 SB è un compatto spazioso e abitabile per la coppia che ama viaggiare senza rinunce.